Una maggioranza che mostra qualche scricchiolio, ma comunque va avanti sul sottile filo dell'equilibrio. Lo si è visto anche nel Consiglio Comunale di lunedì sera a Mortara, nel quale si è votato per la vendita delle quote che la municipalizzata S. Mortara detiene nelle direti. Un punto controverso che rischiava di far saltare definitivamente il banco nella maggioranza, già in fibrillazione negli ultimi mesi, in cui è andata sotto in diverse votazioni. Un punto che però, se non approvato, avrebbe portato alle dimissioni di tutto il Consiglio di amministrazione di ASM. Questo è quanto si apprende da voci di corridoio e che testimonia anche il clima politico surreale nella maggioranza di Fratelli d'Italia, guidata dal sindaco Ettore Gerosa, che nel frattempo continua a perdere pezzi. Il gruppo misto, composto dai tre dissidenti della civica Viviamo Mortara, che aveva appoggiato la candidatura di Gerosa alle elezioni di due anni fa, ha acquistato, infatti, un altro componente. Andrea Usardi ha lasciato il gruppo di Fratelli d'Italia per unirsi ai consiglieri Rufo, Bertin, Zenone e Pischedda. Anche quest'ultimo fu riuscito appena un mese fa dal partito di Giorgia Meloni. Al momento sono quindi cinque i consiglieri del gruppo misto, contro i tre di Fratelli d'Italia, a cui si aggiungono il sindaco Gerosa e la presidente del Consiglio Comunale Denise Mirimin, due figure istituzionali ma con diritto di voto in consiglio. Se a parole, come spiegato il gruppo misto, non è in discussione il sostegno alla maggioranza e al programma elettorale di Gerosa, è tutto da vedere cosa succederà nei prossimi mesi, con un PGT ancora da approvare in consiglio. In tal senso, il primo banco di prova per la tenuta della maggioranza lo si è avuto nell'ultima seduta, in cui è stata approvata la vendita delle quote di partecipazione che a S. Mortara deteneva ancora in L.D. Reti, la società che distribuisce il gas. Un pacchetto di azioni del 4,4% che sarà ceduto alla Multi Utility A2A, già azionista di maggioranza di L.D. Reti e che frutterà un tesoretto di 8.800.000 euro, soldi che resteranno nelle casse di S. Mortara e che, come spiegato da Gerosa, potranno essere utilizzati per futuri investimenti. Un punto che ha scatenato discussione. Il capogruppo di rifondazione comunista Giuseppe Abba ha sottolineato come con la vendita delle quote di L.D. Reti si perda una rendita sicura per la città e come non sia chiaro come questi soldi saranno reinvestiti dal comune di Mortara. Mentre il centrodestra, Lega e Forza Italia, pur non dichiarandosi contrari all'accessione delle quote, sostiene che non spettasse al Consiglio decidere il prezzo congruo di vendita, chiedendo al comune di ripensarci. La maggioranza ha poi deciso di votare in maniera compatta sul punto, risaldando così le proprie fila, ma rimane il punto interrogativo su cosa succederà da adesso in poi in Consiglio.